Siamo a Milano al congresso annuale dell'ERS, la European Respiratory Society, uno degli eventi più importanti per la ricerca sulle malattie respiratorie. Dottoressa Raffaella Fede, che valore ha la ricerca scientifica e qual è l'impegno di AstraZeneca? La ricerca scientifica rappresenta il motore a livello globale, ma anche per il nostro paese, della migliore opportunità di cura per soggetti affetti dalle patologie respiratorie. Basti pensare che in Italia, negli ultimi vent'anni, la mortalità per patologie croniche si è ridotta di circa il 40% grazie all'innovazione farmaceutica e alla ricerca scientifica che l'ha supportata. Come AstraZeneca abbiamo un commitment estremamente importante sulla ricerca scientifica, che rappresenta uno dei nostri pilastri. Basti pensare che nel 2022 sono stati 150 gli studi clinici attivati nel nostro paese e su tutto il territorio nazionale. Siamo stati la prima azienda per contributo alla ricerca, non solo da un punto di vista economico, ma anche appunto per numero di studi clinici attivati. Gli studi clinici in ambito respiratorio sono ben 28 attualmente in corso. 15 sono gli studi indipendenti che supportano la ricerca che viene dalle menti brillanti dei ricercatori del nostro paese. Ben 7 sono gli studi di Real World Evidence, dati che arrivano dalla pratica clinica e che vanno ad arricchire il pool dei dati degli studi clinici. Quali sono gli studi che avete presentato in questi giorni all'ERS? L'ERS rappresenta il più importante congresso di patologie respiratorie al mondo e quest'anno qui in Italia, dopo l'edizione del 2017, c'erano oltre 20.000 persone. È un congresso estremamente importante e la nostra leadership scientifica nell'ambito della ricerca si è confermata tale con ben 99 abstract presentati e 18 presentazioni orali. Questi dati vertono sugli ambiti più importanti per la nostra missione in ambito respiratorio che sono la BPCO, dove la nostra missione vuole eliminare la BPCO come terza causa di morte al mondo. basti pensare che in Italia la BPCO rappresenta il 55% delle morti della terza causa di morte come patologie respiratorie nel nostro paese. Su questo ambito abbiamo portato numerose evidenze, voglio citarne una, lo studio Exacos CV che è uno studio internazionale, multicentrico, con nove paesi, dove l'Italia ha dato un contributo estremamente importante. Questo studio ha dimostrato quanto i soggetti affetti da questa patologia hanno un elevato rischio di sviluppare un evento cardiovascolare dopo una esacerbazione. Infatti i risultati dimostrano come a sei mesi da una esacerbazione moderata o severa i soggetti affetti abbiano un elevato rischio di un evento cardiopolmonare. Nell'ambito dell'asma grave basti pensare che in Italia ci sono 300.000 soggetti affetti da questa patologia tra adulti, adolescenti e bambini. Abbiamo un'importante missione, quella della remissione e qui all'ERZ abbiamo presentato dati rilevanti di due biologici. Il primo, Berralizumab, con lo studio Shammal, ha dimostrato come inoltre il 90% dei soggetti che hanno questo biologico in trattamento è possibile eliminare il farmaco inalatorio di mantenimento. Questo ha portato non solo una efficacia ma anche un miglioramento nella qualità di vita portando questo tipo di schema di trattamento per la prima volta in questi soggetti. L'altro biologico, Tezepelumab, con un meccanismo d'azione estremamente innovativo, ha confermato la sua efficacia a tre anni con lo studio Navigator. Oltre la BPCO e l'asma abbiamo presentato anche numerose nuove molecole nell'ambito dell'early science. Quindi, dottoressa, quali farmaci nella vostra pipeline potrebbero arrivare nei prossimi anni? La nostra pipeline è estremamente ricca e sono in arrivo già nuove indicazioni dei biologici già approvati. Basti pensare anche ai risultati di Berralizumab nell'ambito della patologia Churg-Strauss, una patologia rara e osinofilica, ma anche ci attendono molecole con nuovi meccanismi d'azione come inibitori della mieloperossidasi, come biologici rivolti contro l'interlochina 33 e come nuovi farmaci inalatori come un TSLP inalato e un GEC inibitor inalato nelle fasi precoci di sviluppo. Stiamo anche attendendo la rimborsabilità italiana del nostro inibitore del TSLP. Tra i progetti e i programmi che supportiamo mi piace ricordare l'International Respiratory Coalition, che proprio ieri è stata fondata anche nel nostro paese. Una coalizione internazionale che vede seduti allo stesso tavolo associazioni pazienti, istituzioni, società scientifiche e aziende, tutti volte a supportare un migliore accesso alle cure per i soggetti affetti da patologie respiratorie, un accesso eco e sostenibile, ma anche continuare a portare innovazione ai cittadini del nostro paese con la ricerca e nuove risposte ai bisogni clinici non ancora soddisfatti.